buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale bene ragazzi oggi partita che si è svolta al vigorito al vigorito dove il pisa ha perso per cinque reti a uno allora io direi così sintetizzando una difesa inguardabile un centrocampo inesistente e un attacco inconcludente questo questo è quanto esce fuori da questa partita una partita che il pisa non si doveva permettere di perdere io non dico di vincere ma doveva solamente pareggiare e invece così non è stato così non è stato si prende gol all'inizio quindi primi secondi primi minuti un minuto insomma ecco quindi poi si va in deficit si va in affanno si cerca sicuramente abbiamo lavorato tanto ma la ma in definitiva l'attacco non è stato in grado di segnare una rete di segnare una rete 12 angoli battuti una cosa incredibile e non si riesce a fare una rete la rete poi la troverà nel secondo tempo pusca una bella rete ma non è stato sufficiente praticamente a fare niente solo il gol della bandiera quando eravamo sul 4 a 1 e poi dopo due minuti giustamente ci siamo visti bene di prendere il quinto gol la quinta rete quindi voglio dire la partita si sintetizza così si un buon 20 minuti fatti dal piso perché morti niente zero finiti finiti perché perché non si è riuscito a pareggiare e quindi si è andato in sofferenza di contro è andato in sofferenza una difesa oggi inguardabile beruatto 5 nicolas 5 e mezzo ma proprio per voler belle verbe 4 e mezzo caracciolo 4 nazi 5 centrocampo allucinante e mister chiaramente che oggi si prende un bel 5 è chiaro che si prende un bel 5 oggi se lo prende tutto perché tenere fuori pusca se è perché andato nazionale pusca si tenere fuori cioè ma voglio dire ma basta 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 non vogliamo andare in serie a perfetto questa è la strada non ci sono problemi chiaro io biglietto già per il brescia non è normale ma non ci vogliamo andare e non ci andiamo qual è il problema andiamo a playoff andiamo a playoff perfetto vuol dire che l'anno prossimo si rimane in serie b una una squadra una formazione scese in campo senza testa senza grinta senza niente senza niente facciamo i cambi nel secondo tempo lasciamo perdere i campi non li vado neanche a valutare perché sono invalutabili quindi dopo di che niente che dire più dire che non mi è piaciuto niente non mi è piaciuto nulla mister in primis quindi niente che dire non vogliamo andare in serie a abbiamo già detto non ci andiamo va bene così ci facciamo un'altra stagione speriamo che una formazione alla nostra che secondo me io l'ho sempre detto si sarebbe meritata la serie a perché se perché la nostra formazione secondo me si merita la serie a ma forse perché la guida non è costante e quindi e quindi e i risultati non sono costanti sono altalenanti non c'è altra spiegazione no arrivato a questo punto il nome non mi metto neanche a sentire d'angelo e dopo partito perché non non ne ho proprio bisogno eh non ne ho proprio assolutamente bisogno ecco perché oggi veramente mi sembra che si sia perso anche il primato della difesa imbattibile mi pare dovrei andare a vedere ma non ho voglia neanche di fare quello non ho voglia neanche di fare quello perché perché oggi oggi un pisa fuori da ogni fuori dalle righe fuori dalle righe quando conta non ci sei mai quando conta la testa non c'è mai quando conta il capobranco non c'è mai perché questo è il discorso comunque speriamo che l'anno prossimo speriamo di vedere altre panchine nuovi lì di nuovi orizzonti che dobbiamo fare la speranza è sempre l'ultimo a morire come si dice bene io vi rimando a lunedì alla trasmissione noi siamo nerazzurri e che dire commentate il video dite quello che pensate eh e poi mi raccomando pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto eh stiamo diventando tanti ragazzi quindi mi raccomando iscrivetevi al canale perlomeno abbiamo questa gioia insomma ecco meno una gioia ce l'abbiamo bene io per questo video la finisco qua io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa e come se passa alla prossima a lunedì ciao 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 ciao